Bella raga dal vostro Zcastle, bentornati alle video recensioni del Trono del Re qui su LegaNerd, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, tutta quella solita iter di robe che dovete fare per non perdervi neanche una notifica. Il fumetto di cui vi parlo oggi è Noin di Tsutomu Takashi, edito in Italia da J-Pop Manga. Boom! Allora, Noin è l'ultima opera in ordine cronologico del maestro Tsutomu Takashi, uno dei mangaka più interessanti degli ultimi vent'anni. L'autore di Jiraishin, Tetsuwangur, Detonation Island è realmente uno dei disegnatori più caratteristici e raffinati del sollevante, con un tratto potente, graffiato, estremamente personale ed efficace e anche con qualche nitida influenza europea. Ma è anche un ottimo narratore, capace di dosare suspense ed action, di trattare temi profondi, ma con ambientazioni sempre diverse e molto sfaccettate. Davvero un grandissimo talento. Peraltro, Tsutomu Nyei, l'architetto, autore di Noise, Blame, Knights of Sidonia, è stato suo assistente. Noin arriva in Italia grazie a J-Pop Manga, intanto con i primi sei volumi, questi i primi due di cui vi parlo oggi, ma è già stato annunciato un secondo ciclo di storie di cui però ancora non sappiamo niente. Con Noanne torniamo indietro nel tempo, nel 1940, nella Germania, che vede l'ascesa del nazismo al suo culmine. Le prime tavole, granitiche, ci portano nelle stanze segrete del castello dell'SS, dove Harry Kimmler in persona ordina lo sterminio della progenie del Führer stesso. Tramite un processo genetico di inseminazione artificiale, sono stati letteralmente creati dei figli clone di Hitler, destinati ad un complesso disegno di acquisizione dell'eredità in caso di dipartita del leader tedesco stesso. Ma i piani sono cambiati e i giovani ragazzi, ognuno caratterizzato da un numero, devono essere eliminati. Conosciamo quindi il giovane timido e di buon cuore Franz Noin, il numero 9 di questa stirpe maledetta. Ogni ragazzo è protetto da un Vand, un agente sotto copertura dell'SS che deve proteggere la vita del suddetto. E Theo Becker, il Vand di Noin, ha una dedizione così totale per il suo compito che anche quando le truppe naziste invaderanno il villaggio di Franz, compiendo un massacro per stanare la propria preda, non abbandonerà la sua missione. Comincerà quindi una fuga dei due che presto li porterà in contatto con un'altra Vand, ovvero con Naomi Reisinger, agente nippo tedesca che ha il compito di proteggere Act, l'ottavo bambino frutto dei lombi di Edith, con i quali instaureranno una sorta di alleanza. Ad ogni tappa scorreranno letteralmente fiumi di sangue, in un continuo crescendo di tensione e violenza, restituendoci un'interpretazione di uno dei periodi più bui dell'umanità davvero inquietante e terribile. specie quando a fine volume entra in gioco un villain di proporzioni realmente gigantesche, ovvero il Dr. Hugh, Jürich Naussteider, spero di averlo pronunciato in maniera corretta, che è veramente un personaggio incredibile, un maniaco omicida, ragazzi, ossessionato dall'eogenetica e dal perfezionamento dell'uomo tramite azioni assolutamente aberranti. Se il primo volumetto parte subito molto rapidamente mostrandoci la fuga e mantenendo anche un po' tutto quel alone di mistero sui motivi alla base di questo controordine da parte dei gerarchi nazisti, il secondo volume comincia a fare importanti rivelazioni su Theo Becker, sul Dr. Hugh e il loro comune passato e sulla vera identità dei ragazzi di questo progetto 12 Feld. Perché la chiave di tutto sembra essere collegata al misterioso Sex, il sesto bambino di questo progetto e i suoi poteri ereditati dalla madre. Anche Noin però è speciale e visto che improvvisamente in modo quasi istintivo il ragazzo comincerà a manifestare delle capacità psichiche molto particolari fuori dal comune. Ad ogni momento di tenerezza ed emozione seguono dei momenti di crudo e assoluto terrore, letteralmente pugni nello stomaco, cadenzati da azione e mistero in un equilibrio che veramente devo ammettere è perfetto. E poi Takashi non si trattiene, la sua germania nazista trasuda maledette svastiche ovunque. I locali sono scuri, tetri, i volti dei militari delle SS sono granitici, diabolici. In questo manga sembra che tutto sia creato per sottolineare la natura follemente diabolica del nazismo e delle atrocità compiute sotto quel dannato vessillo. E per restituire anche al lettore tutta quell'atmosfera soffocante di privazione della libertà e come se si sentisse braccato ad ogni pagina. Ogni pagina è come se si sentisse in trappola. Solo lo sguardo di Franz Noin e alcuni brevissimi, peraltro, momenti di apparente normalità ci concedono un po' di respiro in una narrazione davvero potente, una potenza veramente rara. Per quanto mi riguarda ci troviamo di fronte ad uno dei manga più intensi e coinvolgenti dell'intera proposta nipponica attualmente in Italia. Un'opera cruda, sicuramente, ma sapientemente dosata, caratterizzata da disegni eccellenti, originali, mai banali. I volti, i singoli sguardi hanno una potenza capace di oltrepassare la carta e di colpirci direttamente al cuore. Bello e terribile. Non provo piacere nel vedere tutte quelle maledette svastiche tra le pagine, ma questa è anche la misura di come l'autore con Noin riesca a scuoterci e in qualche maniera a disturbarci, ricordandoci quanto quel periodo dell'umanità sia da condannare oggi per sempre, per l'eternità. Siamo al secondo volume di 6. Ogni elemento è stato finora dosato sapientemente per fornirci tutto quello che ci serve per godere una storia pazzesca. Non vedo l'ora di leggere il prossimo. Ottimo colpo J-Pop, chapeau! Di certo Noin è un titolo per stomaci forti e lettori esigenti, ma lo ripeto, è in questo momento nella mia top 5 dei manga degli ultimi tempi. Veramente consigliatissimo. Volumetti da 7,50€ all'uno. Questo è Noin di Tsutomu Takashi, edito da J-Pop Manga. Noi ci vediamo al prossimo video. Lasciate un commento, un bel like, condividete il video. Ci vediamo alla prossima. Yeah! Yeah!